fratello come la vedi questa design di street è abbastanza street no dovrebbe essere più in là però per essere in street street non si passa bene discorsi profondi noi si passa bene per le strade la c'è di or la c'è di argento eccoci qui ragazzi ben trovati ci tenevo a mandarvi questo video messaggio volevo ribadirvi che in qualsiasi contesto luogo condizione quello che ci muove lo spirito di sacrificio la passione per la dedizione un saluto un abbraccio a tutti voi dalla florida da miami south beach float like a butterfly sting like a bee e guardate è vio al fútbol vamos